Perché, perché? Perché cosa, mamma? Perché tanta gente vuole malare? Perché? Forse c'è della gente che lo accusa di essere andato nel sud. Lei lo accusa di essere scappato? No, non sono io. No, scusi, signora, ha detto andato, non scappato. Ha detto andato, ma ha fatto così con la mano che vuol dire scappato.